Benvenuti a Ferrara, una città straordinaria, dove il fascino e l'atmosfera del suo glorioso passato si sono conservati nel tempo in armonia con la vivacità culturale del presente. Dal 1995 il centro storico di Ferrara è patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Ferrara è una città da visitare con calma e lentezza, a piedi o in bicicletta, perdendosi per le sue vie ricche di storia. Il castello Estense, che si erge al centro della città, è il maestoso simbolo di Ferrara, con le sue torri circondate dal fossato, i rossi mattoni di cotto, le eleganti balaustre bianche, le prigioni. Lucrezia Borgia, la chiacchierata figlia del Papa, fu la prima duchessa Estense a stabilire qui la propria residenza. La immaginiamo ancora, chiusa nelle sue stanze al piano nobile, a leggere le lettere ardenti di passione spedite da Pietro Bembo o dal cognato Francesco Gonzaga. Corso Ercole I d'Este, anticamente Via degli Angeli, è il fulcro dell'addizione Erculea che fece di Ferrara la prima città moderna d'Europa. Lasciando il castello Estense alle spalle si nota la prospettiva del grandioso corso. La vista corre lungo i saliscendi, lungo i ciottoli che ne lastricano il selciato, finché lo sguardo non incontra le mura. Iniziamo a percorrerla. Su entrambi i lati notiamo i maestosi palazzi che le conferiscono il carattere residenziale voluto dal duca Ercole I.